Abbiamo bisogno di Panzer, da difese, da combattimento e la richiesta di Zelensky ai 50 paesi riuniti in Germania. Il ministro Crosetto ribadisce non lasceremo sola Kiev. Mosca replica all'Occidente si illude. Perquisizioni a tappeto a Campobello di Mazzara nei covi di Matteo Messina Denaro, controllata anche la casa di un ex avvocato, indagini sulla rete dei contatti del padrino negli anni della latitanza. Morire di lavoro, ancora tre operai hanno perso la vita, è successo a Brescia, Roma e Barberino del Mugello, un'emergenza che ogni anno spezza vite e famiglia nel nostro paese. Il Papa invita i giovani alla prossima GMG di Lisbona, non costruite un muro davanti alla vostra vita, ma guardate sempre l'orizzonte, dice ai ragazzi fa una raccomandazione, arrivate non da turisti ma da assetati di condivisione. Trent'anni fa la morte di Audrey Hepburn, la diva di vacanze romane e colazione da Tiffany, semplicità grazie a candore e charme ha insegnato al mondo cosa significa essere eleganti. 18-28 minuti, una manciata di secondi, buonasera e benvenuti al TG2000. Dall'Ucraina, per voce del presidente Zelensky, arriva la richiesta di carri armati in occasione del vertice dei paesi europei. Mosca reagisce minacciando un escalation e lo scontro diretto con la Nato. Il servizio di Maurizio Dischino. Manca una posizione comune sulla fornitura di carri armati Leopard tedeschi all'Ucraina per sostenere la sua difesa contro l'invasore russo. A Rammstein in Germania, dove sono riuniti i 50 paesi della Lega per l'Ucraina, è proprio la Germania a prendere tempo nel dare il via libera all'esportazione verso Kiev dei Leopard 2, uno dei carri armati più importanti del mondo. Finlandia e Polonia sono pronte a dare il loro Leopard all'Ucraina, ma per farlo devono avere il consenso di Berlino che glieli ha venduti. C'è chi sostiene che il ritardo della Germania sia dovuto al timore di una escalation del conflitto, ma il ministro tedesco della difesa Boris Pistorius oggi a Rammstein ha precisato che non è in discussione il sostegno del suo paese a Kiev, ma la sua strategia adesso è quella di dare priorità alla difesa antiaerea dell'Ucraina. Nel frattempo Berlino sta controllando le scorte di Leopard per essere pronta alla consegna quando arriverà la decisione di inviarli a Kiev. Non abbiamo tempo, dobbiamo agire in fretta, raccomandato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo all'apertura dell'ottavo vertice della Lega per l'Ucraina. Zelensky comunque confortato dalla notizia secondo la quale l'Unione Europea è orientata a dare nuovi aiuti militari per 500 milioni di euro all'Ucraina. Secondo il Cremlino invece l'Occidente si sta illudendo che l'Ucraina abbia successo sul campo di battaglia. Proprio oggi è stato devastante il nuovo attacco russo su due insediamenti nell'area di Kherson, nel quale sono rimaste ferite due persone, tra cui un ragazzo di 15 anni. Non vedo una fine della guerra nell'immediato futuro, ha commentato Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU. Proseguono le indagini su Matteo Messina Denaro dopo la scoperta del terzo covo. A Campobello e in tutta la provincia di Trapani proseguono le perquisizioni. Sentiamo il servizio di Barbara Masulli. A differenza del primo e del secondo covo, pieni di appunti, scontrini, carte, abiti, gioielli, addirittura un quadro di Marlon Brando nell'interpretazione del padrino, nel terzo rifugio del boss Matteo Messina Denaro non è stato trovato niente, nulla più di uno scantinato vuoto. Anche questo covo si trova a Campobello di Mazzara, a poche centinaia di metri dagli altri due e qui dentro il boss. Ha vissuto fino a giugno per poi trasferirsi nel primo dei tre rifugi trovati dai carabinieri. Il dubbio del comandante del roste è che i locali siano stati in parte o, come nel caso dell'ultimo covo, del tutto ripuliti. Mentre a Campobello e in tutta la provincia di Trapani proseguono le perquisizioni a tappeto, attraverso i documenti ritrovati gli inquirenti stanno cercando di ricostruire rapporti e contatti del padrino negli anni di latidanza. La speranza più grande ovviamente è che qualcuno parli, come l'uomo che lunedì ha accompagnato Messina Denaro in clinica a Palermo, Giovanni Luppino, di professione contadino. Il suo arresto è stato convalidato, sebbene Luppino si rica all'oscuro di tutto, anche del fatto che quell'uomo fosse il più ricercato d'Italia. Il GIP non gli crede e anzi ritiene l'autista un soggetto pericoloso, nonché persona di fiducia del boss. Fuori dal carcere potrebbe far sparire segreti e prove. Nelle sue tasche sono stati trovati pizzini e fogli con numeri di telefono. Lì si contestano le accuse di favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza della pena. La versione fornita da Luppino è macroscopicamente inveritiera, ha detto il giudice per le indagini preliminari. Pochi minuti prima dell'arresto il boss avrebbe detto a Luppino è finita. Messina Denaro intanto, malato di cancro, si è sottoposto alla prima seduta di chemioterapia nel carcere dell'Aquila. Dibattito e scontri ancora vivi sul capitolo intercettazioni con il ministro Nordio intenzionato a norme più restrittive per evitare abusi soprattutto nella divulgazione delle conversazioni su giornali e tv. Ce ne parla Pierluigi Vito. Resta vivo il dibattito intorno alle intercettazioni che si infiamma in seguito alle dichiarazioni odierne del sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia Andrea del Mastro delle Vedove e ha parlato di disposizioni allo studio per combattere la divulgazione delle intercettazioni fuori dalle procure, il che vuol dire intervenire sulla stampa che le pubblica. Il PD e più ancora i 5 Stelle alzano la voce parlando di bavaglio all'informazione, mentre la riforma dell'uso delle intercettazioni resta ancora nelle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza, ma senza atti concreti. Se, come ha ribadito il guardasigilli, resta salvo l'utilizzo per reati di mafia e terrorismo, come pure per quelli che Nordio stesso definisce reati satelliti, come il riciclaggio o la corruzione, più incerto è il destino per quelli contro la pubblica amministrazione. Tra fronti contrapposti si fatica a intravedere una revisione condivisa della disciplina di quello che è il nodo centrale. Il problema del rapporto tra libertà del singolo individuo e sicurezza della società, della collettività. La tutela della privacy e quindi dell'identità della persona è fondamentale, è fondamentale ma può trovare dei limiti nelle esigenze delle investigazioni. I limiti e le tutele ci sono, ribadiscono voci della magistratura, come il procuratore di Trapani Paci e la procuratrice generale di Palermo, Sava, mentre in Parlamento Azione e Italia Viva si dicono interessate alle idee di riforma avanzate da Nordio. La Banca d'Italia migliora ancora la stima per il PIL del 2022 che sarebbe salito del 3,9% per il 2023. La nostra economia frenerà attestandosi su un più 0,6%, qualche punto in più comunque dello 0,4% previsto a dicembre. Secondo Via Nazionale l'inflazione quest'anno calerà al 6,5%. Nuova pace con il fisco al Via. È possibile già da oggi andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate e chiedere la rottamazione delle cartelle. Il periodo è ampio dal 1 gennaio 2000 al giugno 2022 e consentirà ai contribuenti che vogliano mettersi in regola con l'erario di diluire il pagamento fino a 18 rate in 5 anni. Possono aderire anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni per non aver pagato la rata o chi ha una rottamazione in corso. La piaga ora degli incidenti sul lavoro. Tre le vittime nella giornata di oggi. Il più giovane da perdere la vita. Un ragazzo di 23 anni. Leonardo Possati. Se il 2022 è stato l'annus orribilis per la sicurezza sul lavoro con almeno 1089 morti, il 2023 non promette meglio. Nella sola giornata di oggi sono tre le vittime. Alle porte di Roma, a Fonte Nuova, è stato un'alba di sangue. Un operaio 23enne impegnato in una ditta per lo camion che conduceva è stato investito da alcuni pannelli di cemento urtati dal braccio elevatore del mezzo. Per Marco, questo è il nome della vittima, non c'è stato nulla da fare. Sempre questa mattina, a Brescia, un operario di 64 anni è morto in un incidente alla metra di Rodengo Saiano. Secondo una prima ricostruzione Dusan Pantelic, di origine serba, è rimasto schiacciato da una lamiera. Inutili soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso. Il terzo morto nel giro di pochi giorni a Brescia, quindi abbiamo un inizio dell'anno davvero drammatico. Abbiamo chiuso con 33 morti lo scorso anno e non stiamo riuscendo in nessun modo ad arginare questo fenomeno. A Barberino del Mugello, poi, un dipendente di un'azienda agricola intorno alle 10.30 è deceduto dopo essere stato urtato da un trattore in transito all'interno della proprietà della ditta per cui lavorava. Nonostante tutti gli appelli della sicurezza, la formazione, i controlli e il pressing sulle istituzioni per chiedere maggiore sicurezza, anche il 2023 rischia di presentare un bilancio pesante. L'inverno è arrivato in Italia portando freddo e maltempo da nord a sud e fino alla fine del mese le condizioni non dovrebbero migliorare. In pianura tra Basso Veneto, Toscana ed Emilia è prevista molta neve nelle prossime ore, così come sugli appennini meridionali. Il freddo oggi ha provocato un'altra vittima, un senza fissa dimora di 67 anni. È stato trovato senza vita nella pineta di Castelfusano, ad Ostia, sul litorale romano. E a causa del maltempo è crollata un'ala del cimitero a Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento, iniziato il recupero delle bare che erano finite in un torrente. Marino Caldiero. E chi è in dimissione? Perché andiamo a fare l'assessore? Perché andiamo a dare i campi di politica? Sussuso! I parenti dei defunti davanti al cimitero di Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento, esprimono la loro rabbia. Lì, in quel torrente, riempitosi con le ultime piogge, ci sono le bare e le urne dei loro defunti. In tutto sono 100. La vicinanza ce la devono dare soprattutto loro, sono i responsabili. Ma tu parlo con me che stai chiamando l'assunto. Chi è responsabile? Quando riguarda il riconoscimento delle salve. È crollato un blocco a ridosso del corso d'acqua, probabilmente per l'azione del maltempo. In campagna, da ieri, la protezione civile ha diramato l'allerta arancione, ma secondo diverse testimonianze, si tratta di un evento annunciato. Dopo i miei suoi, ci sono la mamma, il papà di mia moglie, i nonni di mia moglie, c'è tutto il ramo della famiglia materna di mia moglie, è finito tutto nel torrente. In queste ore si lavora al recupero di bare e urne delle persone tumulate, grazie ad una ditta specializzata tra lo sconforto e il dolore dei familiari. Otto miracolosamente intatte, afferma il sindaco di Sant'Agata dei Goti, Salvatore Riccio, sono state riportate su. La magistratura ha aperto un fascicolo di inchiesta. Noi siamo qui per sollecitare e compulsare l'azione penale da parte della procura, per accertare le responsabilità, se vi sono responsabilità, ma noi riteniamo che ci siano, proprio perché c'era la consapevolezza che il crollo sarebbe avvenuto. L'epidemia di Covid prosegue la sua discesa in Italia e quanto emerge dall'ultimo monitoraggio settimanale appena diffuso dall'Istituto Superiore di Sanità. Ce ne parla Nicola Ferrante. Cracken, la nuova mutazione Covid è arrivata anche in Italia. Già 12 casi certificati, in Veneto soprattutto, fino alla scorsa settimana era Omicron l'unica circolare, adesso anche un'altra sottovariante ribattezzata Ortrus dal nome di un genere di ragno, perché come una ragnatela entrambe queste varianti si diffondono maggiormente anche se i sintomi che scatenano sono più leggeri. Mal di testa, soprattutto immancabile la tosse, quanto ai dati della settimana che si è appena conclusa, si registrano sempre meno contagi e nessuna regione è ad alto rischio. 51.897, i nuovi casi positivi, pari a meno 38% rispetto a sette giorni fa. 495 i deceduti, meno 14% rispetto alla scorsa settimana. Giù l'incidenza a 88 casi ogni 100.000 abitanti. L'RT medio da 0,91 scende a 0,89. 687.000 i tamponi, tasso di positività pari al 7,6%, meno 3,4 rispetto alla settimana scorsa. Non si sa molto della variante Kraken, c'è un'unica ricerca che non è stata ancora pubblicata che indica come questa sottovariante che appartiene allo sciame di Omicron sia in grado di legarsi meglio al recettore ACE2 e questo spiegherebbe una sua maggiore trasmissibilità. Non dà forme più gravi di malattia, positivo il fatto che i vaccini bivalenti aggiornati per Omicron sono in grado di efficacemente contrastare le forme gravi di malattia causate da Kraken. L'amministratore delegato di Alphabet Sundar Pichai ha inviato un messaggio di posta elettronica ai dipendenti con il quale annuncia il taglio di 12.000 posti di lavoro della controllata Google. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg che cita le parole di Pichai, il quale si assume la piena responsabilità della decisione con la quale il colosso della ricerca su internet si allinea a quanto hanno già fatto altri colossi della rete come Meta, Twitter e Amazon. Il procuratore della FIGC Giuseppe Chinea ha chiesto nove punti di penalizzazione per la Juventus alla corte della FIGC chiamata a valutare la riapertura del processo sportivo per le plusvalenze dopo la richiesta di revocazione della sentenza di archiviazione. Tornano al disonore delle cronache i comportamenti di calciatori violenti. L'ultimo caso quello del brasiliano Dani Alves che è di due giovani calciatori del Livorno indicati dai giudici come elementi di spiccata pericolosità sociale. Il servizio di Federico Plotti. Arrestato con l'accusa di violenza sessuale è finito in manetta a Barcellona il brasiliano Dani Alves che è 39 anni. Attualmente calciatore della squadra messicana dei Pumas e che in passato ha vestito anche la maglia della squadra catalana e quelle di Juventus e Paris Saint-Germain oltre che della nazionale verde oro. La presunta violenza ai danni di una ragazza sarebbe avvenuta lo scorso 30 dicembre in una discoteca di Barcellona palpeggiata e toccata nelle parti intime contro la propria volontà. La donna dopo aver denunciato quanto successo al personale si è rivolta alle forze dell'ordine. Il calciatore si è consegnato questa mattina davanti al comando del Mossos de Squadra, la polizia regionale della comunità autonoma della Catalogna che lo ha condotto in tribunale. Calciatori al centro delle cronache per gli stessi motivi anche in Italia. Dopo la condanna in primo grado per violenza sessuale del calciatore del Genoa Manolo Portanova, figlio dell'ex giocatore di Bologna, Siena e Genoa e fino a qualche giorno fa allenatore della Ternana Daniele Portanova, oggi arriva la notizia dell'arresto di due giovanissimi giocatori del Livorno che attualmente milita in Serie D. Si tratta di Federico Apolloni e di un altro figlio d'arte, Mattia Lucarelli, entrambi ai domiciliari con l'accusa di stupro di gruppo. I fatti risalgono al marzo scorso quando i due insieme ad altri amici, tutti indagati, avrebbero approfittato sessualmente di una giovanissima studentessa americana dopo una serata in discoteca a Milano. Videomessaggio del Papa ai giovani che si preparano alla giornata mondiale della gioventù che si terrà dall'1 al 6 agosto a Lisbona. Cristiana Caricato. Non muri ma orizzonti è lo slogan di grande impatto che Papa Francesco consegna ai giovani già pronti a partecipare il prossimo agosto alla giornata mondiale della gioventù di Lisbona. Il 23 ottobre scorso era stato proprio il pontefice dopo la recita dell'Angelus ad iscriversi con un clic all'evento portoghese e oggi sbarca sui social un suo videomessaggio in cui invita a vivere in profondità l'appuntamento che a distanza di 4 anni dalla GMG di Panama rivedrà ragazzi e ragazze da tutto il mondo rompere l'isolamento causato dalla pandemia e ritrovarsi a festeggiare insieme la bellezza della fede. Il Papa fa una raccomandazione arrivare a Lisbona non da turisti ma da giovani assetati di condivisione e orizzonti. I muri chiudono, l'orizzonte fa crescere, spiega il Papa, che chiede di aprire il cuore ad altre culture, a chi arriva da lontano. Un invito ad iscriversi. Ad oggi sono 400.000 i giovani che si sono registrati all'evento per trovarsi insieme al Papa a Lisbona. Il Papa invita i cardinali residenti a Roma, i capi di Castero e i superiori della Curia romana a vivere in modo personale un periodo di esercizi spirituali, sospendendo l'attività lavorativa e raccogliendosi in preghiera dal pomeriggio di domenica 26 febbraio al pomeriggio di venerdì 3 marzo, prima settimana di quaresima. È quanto si legge in un comunicato diffuso oggi dalla sala stampa della Santa Sede. In quella settimana saranno sospesi tutti gli impegni del Santo Padre, compresa l'udienza generale di mercoledì 1 marzo, si legge ancora nella nota. L'economia per il rinnovo del contratto di Colf, Badanti e Babysitter scattano aumenti di stipendio fino a 145 euro all'anno. Clara Iatosti. Nuova stangata per le famiglie, l'incremento annuo sui salari di Colf, Badanti e Babysitter sfiora i 2.000 euro. Non c'è stato accordo tra sindacati e datori di lavoro, nessun compromesso per evitare i rincari e a carico di chi assume per curare anziani, bambini e casa. Le misure concordate in sede di Commissione nazionale dalle parti sociali coinvolte sono onerose. L'adeguamento degli stipendi all'inflazione scatterà in automatico. Rispetto ai minimi del 2022, indica l'Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, l'aumento è pari al 9,2 percentuale, mentre per i valori di vitto ed alloggio arriva all'11,5 percento. Secondo i calcoli effettuati nelle scorse settimane dalla Fidaldo, la Federazione Italiana del Lavoro Domestico, per un abbadante a tempo pieno, la spesa sale di circa 125 euro al mese, che considerando tredicesima ferie e trattamento di fine rapporto, comporterà appunto oltre 1.900 euro annue con decorrenza dal mese di gennaio 2023. Da una parte si rischia la stancata per le famiglie e dall'altra c'è purtroppo la possibilità che si ricorra sempre più al nero. Occorrono misure in grado di tutelare entrambe le parti, come ad esempio la deducibilità delle spese per corte badanti e babysitter. I spazi verdi, così desiderati da tutti noi che spesso ci sentiamo imprigionati nelle città, dovrebbero essere più sviluppati e tutelati proprio per il nostro benessere psicofisico, oltre che per esempio per abbattere gli inquinanti nell'aria. Ce ne parla Letizia Davoli. È la regola verde della salute, una successione di numeri che descrive il rapporto tra il nostro benessere e la presenza della natura urbana, 3, 30, 300. A definirla gruppi di studio che mettono insieme per la prima volta agronomi, medici e psicologi. Tre alberi per ogni casa, il 30% di superficie di ogni quartiere occupata da chiome arbore e 300 metri massimi di vicinanza a un parco o a un grande prato. La regola si basa sulla consapevolezza che i parchi e in generale e il verde urbano hanno effetti positivi sulla salute e il benessere psicofisico dei cittadini. Nasceranno così su queste basi i parchi della salute, le cui linee guida sono contenute nel libro bianco del verde, nato dalla collaborazione Trasso Verde Confagricoltura. Cosa significa? Iniziare a lavorare su temi specifici che riguardano proprio la migliore impostazione per il benessere e la salute delle persone e degli animali all'interno dei parchi e arrivare anche a una certificazione degli stessi. Secondo la ricerca i parchi non solo migliorano la salute degli esseri umani ma anche quella delle città, limitando gli effetti degli eventi meteo estremi e contenendo inquinamento e gas serra. I dati su 14 città italiane dicono che un solo ettaro di foresta urbana in un anno può assorbire 17 chilogrammi di polveri sottili e oltre 1000 chilogrammi di CO2. Il Green Deal europeo prevede un aumento del 5% di aree verdi nelle città. Entro il 2050 una copertura arborea del 10%, obiettivi dai quali le grandi città italiane sono lontane. Nella classifica del verde Milano la prima che compare è solo undicesima con appena 17 metri quadrati di verde per abitante. La cultura, la conoscenza, le arti in tempi così difficili come quello che attraversiamo si ergono ancora una volta come irrinunciabili punti di riferimento. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di Bergamo-Brescia, capitali della cultura italiana del 2023. Il Capo dello Stato è stato accolto da grandi applausi dai 205 sindaci del capoluogo presenti al Teatro Grande di Brescia. La cerimonia si è svolta in collegamento anche con il Teatro Donizetti di Bergamo. Fornire informazioni complete e corrette su temi d'attualità che riguardano scienza e tecnologia per consentire ai cittadini di fare scelte consapevoli e è questo l'obiettivo di Fatti per Capire, il nuovo progetto realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Sentiamo Raffaella Frollone. Si chiama Fatti per Capire e nasce per fornire informazione su temi che riguardano la scienza e la tecnologia soprattutto quando di attualità nel dibattito pubblico. Presentato questa mattina a Milano il progetto è realizzato dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci con la partnership di Science Media Center che dal 2002 opera nel Regno Unito. È importante perché il museo che è già un importante strumento di comunicazione nel mondo della scienza e della ricerca tecnologica nei confronti del pubblico e naturalmente in relazione con i media viene a essere dotato di uno strumento in più, non solo le esposizioni che sono sempre più qualificate, non solo i nostri laboratori con i servizi educativi, non solo il dialogo fra arti e scienza che si sviluppiamo in modo progressivo ma anche questo modo di rivolgersi ai nostri pubblici sulla contemporaneità ma sempre con un riferimento di carattere scientifico. Fatti per Capire si rivolge in primis a giornalisti ed esperti di comunicazione e si propone di far crescere la cittadinanza scientifica. Io penso che noi abbiamo il diritto e la necessità di avere cittadinanza scientifica ma i diritti e le necessità si traducono in concretezza, in servizi, in aiuti quando veramente in una società democratica come collettività li richiediamo. E questo è uno dei progetti che credo che ci aiuti a renderci consapevoli del nostro bisogno di avere informazioni, di ascoltare le voci, di essere aiutati a capire cosa avviene nel mondo della ricerca. Il progetto si articola in diverse componenti web e social che affrontano di volta in volta un tema di attualità. Il primo online già da oggi sono le auto elettriche. Per ciascun argomento il portale ospita contributi, foto e immagini fornite dai ricercatori e dagli enti patrocinanti. Anni di proteste sui pericoli dell'inquinamento luminoso sono diventati un SOS disperato. Il cielo stellato sta svanendo in tutto il mondo a un ritmo più veloce del previsto, compreso fra quasi il 7% e il 10%, superiore rispetto a quello finora previsto sulla base dei dati dei satelliti. Se questa tendenza dovesse proseguire, un bambino nato oggi in un luogo dove sono visibili 250 stelle e quando compirà 18 anni potrà vederne appena 100, rilevano gli autori della ricerca pubblicata sulla rivista Science. Trent'anni fa la morte di Audrey Hepburn, semplicità, grazie a candore e charm. La Hepburn ha insegnato al mondo cosa significa essere eleganti, costruendo un personaggio iconico che ancora oggi rimane un ricercato esempio stilistico e con un forte legame con il bel paese. Francesco Durante. Era diventata famosa in tutto il mondo interpretando il ruolo della principessa Anna nel film Vacanze Romane del 1953 che elevasse l'Oscar come migliore attrice e protagonista, unendo al talento il fascino e l'innocenza. Audrey Hepburn, elegante, raffinata, carismatica, icona di una bellezza moderna e smarazzina. Oltre all'Oscar vinse tre Golden Globe, un Emmy, un Grammy Award, tre Davide di Donatello. Tra i suoi film memorabili Sabrina, Guerra e Pace, Cenerentola a Parigi, My Fair Lady e Colazione da Tiffany. Fumosa ispiratrice dello stilista Givenchy che creò per lei abiti da favola indossati sia al cinema che nella vita quotidiana. Negli anni 70 e 80 apparve sempre più raramente sul grande schermo preferendo dedicarsi alla famiglia. Nel 1988 fu nominata ambasciatrice ufficiale dell'Unicef dedicandosi all'impegno umanitario per il quale ottenne numerosi riconoscimenti. Colpita da un tumore all'intestino, si spense il 20 gennaio 1993 nella sua casa in Svizzera all'età di 63 anni. L'American Film Institute ha inserito Audrey Hepburn al terzo posto tra le più grandi star della storia del cinema, omaggiata anche con una stella sulla via hollywoodiana delle celebrità. Ci fermiamo per qualche istante ma torniamo tra pochissimo, restate con noi. Eccoci di nuovo insieme con una notizia, un treno di Trenord in manovra senza passeggeri ha superato un tronchino di sicurezza alla stazione centrale di Milano provocando danni alla linea elettrica e causando rallentamenti sulla linea con ritardi fino a due ore e cancellazione di convogli. È tutto, ora il meteo e poi la messa e il prossimo Tg alle 20.30. A più tardi.